Grazie Presidente. Prendo la parola con estrema soddisfazione per avere percepito, da parte di tutti i gruppi che si sono alternati nell'intervento prima di me, dell'espressione di solidarietà e di vicinanza verso le amministrazioni da cui provengo, ossia le forze dell'ordine. Quello che si sta cercando di consumare o di riproporre è un copione che oramai da 38 anni, da quando sono entrato in polizia, continuamente mi viene riproposto, quasi come se ci fosse qualcuno fuori che tentasse in maniera oppressiva, portando una divisa, di schiacciare le libertà democratiche. Gli operatori delle forze dell'ordine sono in piazza per garantire il libero dissenso, di garantire ai cittadini di manifestare legittimamente il loro dissenso forte verso una situazione oramai intollerabile e inaccettabile. Io personalmente aderisco alle motivazioni di quelle manifestazioni. ci sono persone che hanno lavorato tutta una vita senza cassa integrazione, senza liquidazione, senza malattia, senza nessuna tutela da parte di un socio che è lo Stato che ogni anno tra imposte dirette e indirette gli assorbe oltre il 70% del proprio fatturato. Queste persone hanno ragione, hanno bisogno di risposte e di certezze. Bene ha detto Matteo Salvini, bene ha detto il Ministro Garavaglia. Dobbiamo individuare delle date certe, dare delle certezze se vogliamo riprendere. Quello che servono è fatturato. Queste persone chiedono di lavorare e hanno ragione e non saranno gli interventi di qualche scalmanato o di qualche infiltrato a mettere in ombra le loro ragioni, che sono fortissime e veritiere, legittime, giustificate. Certo, qualche d'uno ha detto cosa dobbiamo fare? Quello che stiamo facendo, pancia a terra e lavorare per un piano vaccini serio, per dare delle certezze alla gente e per riportare il Paese alla normalità. Ma non possiamo non guardare ai fiumi di latte versato che oramai, voglio dire, stanno raggiungendo il mare. Fiumi di latte versato. Abbiamo un'industria farmaceutica straordinaria in Italia e nessuno ha pensato a produrre vaccini. Ci dovevamo pensare oggi? Ci dovevamo pensare noi? Ci doveva pensare questo governo? Prima nessuno mai pensato, pensavamo solo alle primule, ai banchi a rotelle, a che cosa stiamo parlando? Da stupidaggini, oserei dire, ma non la voglio mettere in cacciare e in polemica. Voglio dire semplicemente che prendiamo spunto dagli errori fatti e non commettiamone altri. Evitiamo un isterismo tra chiusura e apertura e diamo certezze a chi in Italia mantiene questo Paese, cioè gli imprenditori, chi lavora, chi ha investito del proprio capitale la propria vita per realizzare qualcosa. Chi contribuisce con le proprie tasse a mantenere questa macchina dello Stato? Questo noi dobbiamo fare, colleghi, e non dobbiamo consentire a nessuno di dover offuscare queste ragioni, che sono sacrosante, come non dobbiamo consentire a nessuno di giocare, come è stato per 40 anni ho visto, sulla divisione all'interno della nostra società tra forze dell'ordine e manifestanti. Io sono sempre andato in piazza, orgoglioso di tutelare il diritto a manifestare con durezza, con fermezza, pacificamente e senza armi, come dice la nostra Carta Costituzionale, pacificamente e senza armi. Questo è quello che dobbiamo fare, però non possiamo non guardarci indietro. E lo ripeto, sono stati commessi nell'ultimo anno un'infinità di errori. Guardiamo al Paese esteri, stranieri, non voglio fare il solito esempio l'Inghilterra, ma tantissimi altri, che hanno affrontato in maniera diversa, con determinazione e linearità, e sono in una condizione migliore della nostra. Questo ce lo dobbiamo dire. Cerchiamo di imparare dai nostri errori e cerchiamo soprattutto di dare delle certezze agli italiani che ne hanno bisogno, ne hanno assolutamente bisogno, perché una seconda possibilità non ce l'avranno. Per questo gliela dobbiamo dare ed è un obbligo nostro. Siamo qui per questo. Grazie. Deputato Colletti, prego. Grazie.